Ah, guarda, Andrea, è venuto. Lanza la pietra e la finestra, no? Principe. Che, 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 che avroci fai qua? Che ridi? Rido perché non me l'aspettavo proprio. No? No, per niente. Adesso dirà, sono contenta, come dice a me, come dice a tutti. Che bella sei, oh? Mannaggia, oh. Anche così lontana sei bella, lo sai? Mmh. Per solo che le piace a lei, che la vengano a trovare, che le, che le, che le dicano complimenti, sentirsi proprio al centro dell'universo. Che ride? Mi viene da ridere. Mi chiamo? Ciao, principino. Tutti bene? Bene, tu come stai? Bene, bene, bene. Sì. Perché sei venuta? Voglio di vederti, volevo capire dal tuo sguardo se magari poteva cambiare qualcosa. Però i tuoi occhi mi sembrano sempre gli stessi. Mmh. Con me. Con te. Buongiorno. 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 Buongiorno.